Signori, Il Principe Studente Film musical, purtroppo non mi sono accorto quando l'ho preso che era un musical infatti sono già due punti in meno per me perché sono cose inguardabili se c'è una canzone posso anche capire ma pensavo che fosse una storiellina di un principe tipo Sissi e robe del genere insomma alla fin fine, fin dal 1950-54, voto 5 un saluto a tutti, iscrivetevi al canale, mettete mi piace, ciao ciao